La più grande ruota panoramica del mondo sarà realizzata entro il 2017 a New York, con componenti prodotti dall'azienda abruzzese Walter Tosto, leader a livello internazionale nell'industria delle caldaie e dei serbatoi. La ruota è alta 192 metri con un diametro di 183 metri e diventerà una delle attrazioni della Grande Mela, come la Statua della Libertà e l'Empire State Building. Avrà componenti per 2 milioni di chilogrammi che saranno realizzati negli stabilimenti di Ortona e Chieti della Walter Tosto. L'azienda, specializzata nei grandi impianti di caldareria con oltre 550 dipendenti, un fatturato di circa 100 milioni di euro, riafferma con questa operazione il valore del Made in Italy nel mondo e si fa ambasciatrice dell'industria manifatturiera abruzzese a livello internazionale. Soddisfatto il fondatore e presidente della società Walter Tosto, orgoglioso per il successo dell'azienda e per il lavoro svolto dal figlio Luca. La ruota di New York è venuta a noi per caso, certamente per caso ma con aderenze giuste. Ci siamo sacrificati per ottenere un lavoro del genere e sarà un lavoro di un anno molto interessante e sarà un'esperienza interessante. La fortuna è stata l'entrata in azienda di mio figlio. Per buona fortuna io ho capito che dovevo tirarmi indietro e questo non è semplice. Per chi si fa da sé, tirarsi indietro è la cosa più difficile. Per chi si fa da sé,